Bene, partiamo con la prima ricetta! Oggi vediamo la crostata linser, una crostata buonissima, molto friabile e godibile al palato, una delle mie preferite. Così! La stessa cosa la potete fare tranquillamente anche in una tortiera svasata. Due e tre. Quindi crostata linser, frolla le nocciole, una confettura e frutti di bosco di qualità, un pochettino di zucchero a velo, un pochettino di gelatina neutra per lucidarla, un ribes con un piccolo decorino di oro in polvere, la crostata è terminata. Quindi ci vediamo per la foto finale e ci vediamo alla prossima lezione! Ciao!